Luca Comics and Games, la manifestazione più attesa dell'anno, purtroppo porta con sé alcuni inconvenienti per il cambio di viabilità che la città è costretta a subire. I residenti lamentano in particolare i problemi di parcheggio durante i giorni dell'evento, un'alzata di scudi che si ripete ogni anno, che da parte della logistica è difficile da superare, data l'ampiezza dell'evento. Alcuni di questi problemi, peraltro, sono dovuti ad errori nella collocazione della segnaletica stradale, come sul lato ovest di Piazzale Ricasoli, dove sono stati installati tre cartelli di divieto di sosta di fronte agli stalli per residenti. L'ordinanza di riferimento, affissa sul retro dei cartelli, recita che dal divieto di sosta sono esclusi i residenti e i taxi. Altra questione, il divieto di sosta è in via Geminiani, dove i residenti lamentano l'impossibilità di parcheggiare sugli stali blu del lato ovest durante i giorni della manifestazione, a causa di un cambio di viabilità della strada. Il divieto è steso anche ai portatori di permessi di invalidità. I cittadini, a loro dire, lamentano soprattutto l'impossibilità in quei giorni di trovare un parcheggio vicino alle mura, dato che, al contrario di chi abita fuori dal centro storico, non hanno la possibilità di parcheggiare negli stalli blu.